Salve a tutti e benvenuti sul canale. Io sono Lorenzo e nel video di oggi parleremo del caso del maggiore Kit Martin, un onorevole servitore del suo paese, un pilota, un padre e per lo stato del Kentucky un assassino. Tuttavia perché ci sono alcune persone che sostengono che sia innocente anche dopo il processo? Persone che credono che sia stato incastrato? Ve lo dico io il perché, perché ci sono tanti punti interrogativi sulla vicenda ancora oggi. Le prove tutto sommato scarseggiano e la tesi dell'accusa fa acqua in alcuni punti. Vediamo di capirci qualcosa tutti insieme, mettetevi comodi. Nel video di oggi siamo diretti a Pembroke, un paese di 800 abitanti circa situato nella campagna della contea di Christian in Kentucky, anno 2015. Tutto ebbe inizio nelle prime ore del mattino del 19 novembre. A Pembroke aveva piovuto per cinque giorni di fila, un tempaccio ed un uomo di nome Earl Jett stava dormendo beatamente in casa sua, quando all'improvviso venne svegliato da un forte boato alle 2.12 che proveniva dalla strada di fronte alla sua residenza, la Rowstown Road. L'uomo pensò ad un fulmine e si riaddormentò subito, ma qualcosa non quadrava. E alle 8.42 Earl uscì in strada per svolgere le sue indagini. L'uomo quando uscì di casa, inorridito sulla Rowstown Road, vide una macchina parzialmente avvolta dalle fiamme. Nel sedile posteriore c'erano due scheletri. Il fuoco aveva causato danni gravissimi alla vettura. Evidentemente era stato appiccato nel pieno della notte e le due persone, i due scheletri che erano al suo interno, erano praticamente irriconoscibili. Il medico legale li identificò solo tramite le impronte dentali. Sulla scena non c'era nulla che facesse luce sull'identità delle vittime, all'epoca. Solo la targa dell'automobile. E quella targa portò gli inquirenti a casa di un certo Calvin Phillips. Calvin, 59 anni di età, era un ex ufficiale dell'esercito, ora negoziante, che abitava con sua moglie Pamela, di 57 anni, al numero 443 di South Maine, a Pembrook. Due chilometri di distanza dalla macchina in fiamme. Alle ore 13.35 del 19 novembre gli agenti entrarono a casa di Pamela e Calvin e non li trovarono lì. Questi due coniugi sposati da oltre 30 anni erano scomparsi. I loro due figli, che vivevano altrove, dissero alle autorità che questa loro assenza era assurda ed ingiustificata. La coppia, misteriosamente, aveva smesso di rispondere al telefono dal pomeriggio del 18 novembre, dopo le 5.30 circa. Erano loro i due scheletri? Ni. Perché nel tardo pomeriggio anche il vicino di casa dei Phillips, Edward Danzero, venne riportato scomparso alle autorità dalla sua fidanzata Sally Jackson. Anche lui misteriosamente scomparso il pomeriggio del 18 novembre. Edward era un bravo uomo e un pianista superbo che suonava con numerosi gruppi. Un grande amico dei Phillips e abitava alla loro sinistra, praticamente. Alla luce di questa nuova scomparsa, le autorità stabilirono che i cadaveri rinvenuti nella macchina erano quelli di Pamela e del suo vicino di casa, Edward. Erano stati uccisi con numerosi colpi, esplosi da una calibro 22, poi gettati nei sedili posteriori della macchina e dati alle fiamme. Non erano morti nell'auto, se ve lo state chiedendo, ma nel vialetto che le loro case condividevano. Quando i poliziotti controllarono lì, videro numerose macchie di sangue a terra. Ma dove è Calvin? Dove è andato a finire? Ecco che anche lui, dopo uno scrupoloso controllo della residenza, fu individuato con successo. Il 59enne giaceva in una pozza del suo stesso sangue, alla base della rampa di scale che porta alla cantina. Era stato ucciso con tre proiettili di una calibro 45, due al petto e uno alla testa. Particolare e interessante, questa rampa di scale era nascosta da una botola segreta nella veranda dei Philips. L'assassino, per complicare il lavoro delle autorità, aveva tentato di nascondere questa botola con delle lenzuola e un pannello di legno. Poi aveva tentato di dargli fuoco. Tentato è la parola chiave. Con la macchina aveva avuto più fortuna. L'omicida sulla scena del crimine non aveva lasciato nessuna traccia del suo passaggio in pronte di scarpe, digitali, capelli, DNA, sangue, niente. E non aveva preso niente nemmeno dall'abitazione delle vittime. I soldi non erano certamente il movente di questo triplice omicidio. Ma chi avrebbe voluto barra potuto uccidere queste persone? Secondo gli inquirenti proprio il loro non più caro vicino di casa, un certo Christian Martin, detto Kit, maggiore dell'esercito americano. E incredibilmente le autorità ricevettero una chiamata anonima il giorno del ritrovamento dei cadaveri. In questa chiamata anonima una donna non identificabile disse alle autorità che a casa del maggiore Martin c'erano delle prove che lo collegavano al triplice omicidio. Un indizio curioso ed estremamente specifico. I detective non ignorarono questo dettaglio e un giorno dopo il fatto di sangue la SWAT fece irruzione a casa del maggiore e lo arrestò traumatizzando la sua fidanzata Laura che ancora ad oggi fa fatica a rivivere quell'esperienza senza piangere. Nonostante una perquisizione accurata dell'abitazione del maggiore le autorità non trovarono nulla che dimostrasse la colpevolezza di Christian, solo una Glock calibro .45 in cassaforte. Calvin era stato ucciso con una calibro .45 ma era quella l'arma giusta. Alla fine venne fuori che Christian aveva anche un alibi per il giorno dei delitti. Era l'anniversario del suo fidanzamento con Laura Spencer, la fidanzata, e i due il pomeriggio del 18 novembre dalle 5.36 in poi. Si erano messi davanti alla tv, film, poi una doccia insieme, avevano passato una bella giornata. E anche il telefono di Kit. Il telefono non mente. Il militare il giorno in questione aveva inviato numerosi messaggi ad amici e persino un'email. O è perfino un'email. Martin dopo il suo arresto venne rilasciato dalla polizia senza accuse. La se la sentiva di portare il caso in un'aula di tribunale con queste prove estremamente circostanziali e poco solide. Ma chi è questo pilota dell'esercito americano? E perché la polizia ha pensato subito a lui, ancor prima che i detective ricevessero la chiamata anonima? Christian Kit Martin era un maggiore dell'esercito pluridecorato che faceva parte delle forze armate da quando aveva compiuto 18 anni. Un uomo tutto d'un pezzo, d'onore, che teneva al suo grado, alla sua divisa e aveva servito il suo paese in diverse missioni in Medio Oriente e nel corno d'Africa. Kit dal 2011 viveva a Pembroke e lavorava ad una base militare a 30 minuti di distanza da lì. Pilotava elicotteri ma ci sapeva fare anche con gli aerei. Nel 2015 il maggiore abitava con la fidanzata Laura Spencer e i due figli della donna, liceali, di fronte all'abitazione di Edward, una delle vittime. E le cose andavano abbastanza bene sia con i vicini sia con la sua nuova amata, anche se in passato c'era stato qualche screzio. E questo è importante, quindi seguite bene. Prima del 2011 il maggiore aveva avuto qualche problema con la sua seconda moglie, Joan. Una signora particolare. Joan era una bugiarda patologica, una persona con la fedina penale sporca e un infedele. Mentre era sposata con Kit, beh era sposata con un altro uomo in un altro stato che aveva accusato di stupro e stalking. Accuse non vere. Quando il maggiore si rese conto che questa donna era un po' strana, tentò di lasciarla. E a quel punto lo stupratore divenne lui. Joan, proprio mentre la loro relazione stava terminando, andò dalla polizia e accusò questo maggiore dell'esercito di stupro e aggressione, nei suoi confronti e nei confronti dei suoi figli. Quando le informazioni riguardo a queste accuse vennero rese pubbliche dalla corte, Joan si trasferì in una casa a Hopkinsville con i suoi ragazzi e venne aiutata non poco da Calvin e Pamela. Pensate che i Phillips trovarono un alloggio per lei. Due persone gentilissime e fantastiche. Ora, ora. Calvin e Pamela aiutavano, come vi ho già detto, Joan nel trasloco. E nel novembre del 2011 erano a casa del maggiore per prendere le cose della donna. Che ne so, trucchi o vestiti, queste cose qua. Kit disse che le stavano rubando, non prendendo. Insomma, scegliete voi a chi credere. Ecco, ad un certo punto Calvin, che si trovava nel ripostiglio, trovò un tablet militare con la scritta Top Secret sopra. Strano. Calvin lo accese e si rese conto che all'interno di questo dispositivo elettronico c'erano numerosi file Top Secret dell'esercito americano. Il maggiore Martin non era autorizzato al possesso di tali informazioni e Calvin, ben conscio di questa cosa, chiamò l'FBI e denunciò il suo vicino di casa. Kit a quel punto venne accusato di stupro, aggressione contro Joan e i suoi figli, e del furto dei fascicoli Top Secret trovati da Calvin. Lui si dichiarò non colpevole. Il maggiore avrebbe dovuto rispondere di queste accuse di fronte alla corte marziale il 25 novembre 2015. Calvin Phillips avrebbe testimoniato a favore dell'accusa contro di lui, dicendo, ehi, ho trovato quei fascicoli militari nel suo ripostiglio, e abusava e picchiava Joan e i suoi figli. Star witness for the prosecution, penso sia la frase che ho sentito più spesso mentre mi informavo su questo caso. E stranamente sette giorni prima dell'inizio del processo Calvin Phillips venne ucciso con tre colpi di una calibro 45. Che coincidenza, che va a favore del nostro maggiore. Ma ricordiamocelo, le prove non ci sono, solo un commovente. Ovviamente eliminare il testimone scomodo. Forse Pamela ed Edward erano nel posto sbagliato al momento sbagliato, alla fine condividevano il vialetto, magari Edward aveva sentito qualcosa, era uscito e aveva fatto una bruttissima fine. La sua colpa è stata quella di essere un vicino troppo gentile, che aiutava sempre. Pensate che i Phillips ed Edward stesso avevano intuito un imminente pericolo. Una volta avevano notato il maggiore a girarsi con fare sospetto in un campo dietro le loro case e per sicurezza avevano cominciato a frequentare corsi di difesa personale mediante l'uso di un'arma da fuoco. Calvin disse anche ai suoi figli in un'occasione, ragazzi se mi succede qualcosa ricordatevi, è stato Kit Martin. Nove giorni dopo gli omicidi, la sorella di Calvin, che stava rimettendo in ordine l'abitazione del fratello, notò delle piastrine militari vicino al portafoglio di Calvin. Però era strano perché il nome riportato su quelle piastrine non era Calvin Phillips, ma Christian Martin. Il 16 aprile 2016 la donna fece un'altra scoperta importantissima per le indagini. Mentre puliva la veranda trovò un bossolo di una calibro .45, vicino a dove cinque mesi prima c'era il cadavere di suo fratello. Il bossolo proveniva dall'arma del maggiore con alte probabilità, ma gli esperti non riuscirono a collegare il bossolo a uno dei proiettili che aveva ucciso Calvin Phillips. La sorella di Calvin, quando chiamò la polizia per avvertirli della scoperta, venne sottoposta alla macchina della verità. Fallì il test. Lo fallì miseramente. La procuratrice, alla luce di queste nuove scoperte, tentò di trovare dei buchi nell'alibi del colonnello, basandosi sulle sue attività telefoniche, sulla testimonianza di Laura. E ricordatevi, questa è un'operazione complessa, ci vuole tempo. Non è facile ricostruire la dinamica di un triplice omicidio e collegarla ad un imputato, con un alibi così forte. Era con la signora Spencer il 18 novembre, era il loro anniversario. Ignaro delle prove che si stavano accumulando a suo carico, Kit mantenne la sua innocenza e si presentò da libero cittadino di fronte alla corte marziale nel maggio del 2016. Dopo la morte di Calvin, il suo processo sì, era stato sfostato dal 25 novembre al maggio dell'anno dopo. Le accuse di cui il maggiore doveva rispondere erano estremamente gravi, stupro, aggressione e il furto dei file militari. Rischiava molti anni di galera, ma grazie all'assenza di Calvin, le accuse di stupro e aggressione vennero fatte cadere. Joan a quanto pare non era una testimone molto attendibile, beh, bugiarda patologica quindi. Ma sfortunatamente Kit venne dichiarato colpevole del furto dei file militari e condannato a tre mesi, 90 giorni di carcere. Christian dopo aver scontato la sua pena tornò ad essere un uomo libero nel 2017 e si trasferì in North Carolina con Laura Spencer. L'ex maggiore a causa del processo aveva perso il suo ruolo militare, ma aveva trovato lavoro come pilota di aerei civili per la American Airlines. E nel frattempo tutti si stavano chiedendo, inclusi i figli dei Phillips, ma il triplice omicidio a Pembroke? Lo arresterete? Ci sono delle prove? Perché non è già in carcere una persona così? Cioè, lo sapete, quello è un assassino a piede libero. La polizia, nonostante la montagna di domande, non rilasciò mai nessuna dichiarazione. L'ex maggiore? Lui ne rilasciò due o tre. Kit, un anno e mezzo dopo il triplice omicidio, si decise a rilasciare un'intervista dove continuò a proclamarsi innocente. Christian spese delle parole durissime nei confronti di Edward e Calvin, due delle tre vittime, mancando loro di rispetto a più riprese. Secondo Kit, Joan andava a letto con Calvin, quindi c'era anche questa quest'altra storia di infedeltà. E Edward nel tempo libero si drogava. Una volta il maggiore l'ha trovato disteso in mezzo alla strada che non rispondeva della serie ma tutto a posto. Parole poco gentili e parole che sono uscite dalla bocca di Christian, quindi vanno prese con le pinze. Potrebbe aver detto una cavolata. Sally, la ragazza di Edward, disse ma, drogato lui? Mai preso droga in vita sua? Ha usato delle parole infelici, ma questo non lo rende un assassino. Tuttavia, dopo anni di ricerche e ricostruzioni, la procuratrice riuscì ad assemblare una tesi accusatoria solida. E nel maggio del 2019, Kit venne arrestato all'aeroporto di Louisville e accusato di tre omicidi di primo grado. Lui si dichiarò non colpevole. Quando lo portarono nel carcere della contea di Christian, Kit chiese agli agenti di fargli la foto segnaletica con indosso la sua divisa da pilota civile. Che tizio questo tizio. Io spero che gli piaccia anche il colore arancione perché da ora in poi penso che indosserà praticamente solo quello. E in questo momento lo so che cosa state pensando. Allora è prove, opportunità, movente, mezzi. Kit aveva tutte queste cose. È palese che sia lui l'assassino. Sicuramente è uscito mentre Laura era distratta e ha commesso il triplice omicidio. Beh, lasciate che vi presenti il caso da un'angolazione differente, con ordine e logica. Movente. Calvin avrebbe testimoniato contro Kit, il testimone più importante per l'accusa al processo di fronte alla corte marziale. Questo è quello che dice la procuratrice. Ma siamo davvero sicuri che Calvin avrebbe testimoniato contro il maggiore? Calvin ha processo. Avrebbe testimoniato contro Joan, non contro Kit. Calvin avrebbe fatto a pezzi la testimonianza della donna, che poi è stata comunque fatta a pezzi, dicendo che, vostro onore, Joan è una bugiarda e Kit non ha mai picchiato o stuprato i suoi bambini. Però, vostro onore, effettivamente sì, ho trovato dei file militari top secret nel suo ripostiglio. Quindi sarebbe stato un 50-50, ecco. Mezzi. Edward e Pamela sono stati uccisi con una calibro 22. Dove si trova quella pistola? E poi il bossolo, ritrovato cinque mesi dopo dalla sorella di Calvin e non dalle autorità. Ma non è un po' strano. E poi quel bossolo, la marca, la marca. Kit non aveva mai comprato munizioni di quella marca in vita sua. Opportunità. Uccidere tre persone richiede tempo. Laura era con Kit il pomeriggio degli omicidi alle ore 5 e 30 e non ha sentito barra visto nulla. Possibile che abbia avuto il tempo di commettere questo triplice omicidio? Parliamo anche del grande fratello dei nostri occhi elettronici. Ah già, l'accusa processo non ha portato nessun filmato delle telecamere. La difesa lo ha fatto. La difesa portò i nastri delle telecamere di casa del maggiore. Perché quando la SWAT entrò a casa sua, Calvin disse ma volete anche i nastri? E loro gli dissero no, non è importante. Non è importante. E guardiamoli questi nastri, che cosa si vede? Assolutamente nulla. Ok, l'imputato esce, rientra più volte intorno alle 20-21, ma le sue uscite durano pochi minuti. Ed è chiaro dai nastri che Kit si limitò a dare il cibo a uno dei suoi cani e agli altri animali che aveva. Laura Spencer durante la sua testimonianza disse che Kit per uscire utilizzava solo la porta che era video sorvegliata, ovvero quella sul retro. E che se si fosse allontanato il pomeriggio del 18 novembre per commettere un triplice omicidio, lei lo avrebbe notato molto probabilmente. Ma non ho finito qua. Earl Jett, ve lo ricordate l'uomo che abitava sulla Rostown Road, disse di aver sentito l'esplosione alle 2 di notte. Peccato che Kit era a letto con Laura e una telecamera che riprende un punto di Rostown Road alle ore 11.30 catturò quello che sembra essere il fumo di un incendio. Allora non è stato appiccato alle 2.12, ma più o meno alle 11.30. Questo getta altri dubbi sulla tesi accusatoria. Le piastrine militari. La prova schiacciante, insomma, sulle sue, come ci saranno finite sulla scena del crimine. Ritrovate dalla sorella di Calvin accanto al borsello della vittima, nove giorni dopo. Voi mi volete dire che 50 perquisizioni in quella casa, il cadavere di Calvin, nessuno ha mai preso il borsello della vittima, nessuno ha notato quelle piastrine. E sono state prese dalla sorella nove giorni dopo. Proprio come con il bossolo. Ma non è un po' strana questa cosa? Puzza, non è che qualcuno li ha messi lì per incastrare il maggiore? Qualcuno che aveva giurato di rovinargli la vita anche in tribunale? Qualcuno che è un bugiardo patologico? Qualcuno che potrebbe essere in grado di chiamare la polizia con il telefono anonimo e dire che ci sono delle prove schiaccianti sul triplice omicidio a casa di Martin, di Kit Martin? Qualcuno come la sua ex, Joan. Joan che non ha passato il test della macchina della verità. Kit sì, Kit lo ha passato a pieni voti. Joan che era in possesso del telefono di una delle vittime, Pamela, il pomeriggio del triplice omicidio. Come ci è arrivato a avere quel telefono? Joan che era a Pembroke il giorno del triplice omicidio. Forse, dico forse, voleva eliminarlo lei il testimone scomodo che avrebbe dato della bugiarda in tribunale, ovvero Calvin, per poi incastrare il suo ex, quindi due piccioni con una fava. La testimonianza di Joan mi piacerebbe tanto ascoltarla e il problema è che non ha mai testimoniato a processo contro Christopher, contro Christian Martin. Ha testimoniato in quello di fronte alla corte marziale, ma in quello riguardo al triplice omicidio non si è proprio presentata. Che cosa ha da nascondere questa donna? No, I remember the dogs, I checked on the dogs one time because they're like whining about something and I went out. No. Were you sneaking out the front door? Nobody was sneaking out the front door. But I'm asking you straight, right now. Yeah. Did you sneak out of your house that night? No, I didn't sneak out of my house that night. I was with Laura. Did you somehow take a car from across the street? Or from some other location? No. A processo l'accusa spiegò alla giuria che l'imputato aveva premeditato il massacro dei Phillips da mesi. Ecco perché non ci sono le prove forensi. Il giorno in questione era uscito dalla porta principale, quella non videosorvegliata mentre Laura era distratta e aveva commesso il massacro alle ore 5 e 30. Dovete sapere che a quell'ora una donna che abitava abbastanza vicina ai Phillips udì gli spari e le urla di Pamela. Tuttavia quando si diresse lì a controllare alle 6 e alle 7 non vide nessuno. Tentò anche di bussare alla porta ma nessuno gli aprì. Nessuno le aprì. Sempre secondo l'impianto accusatorio, Kit quel pomeriggio sparò a Calvin con la 45 e a sua moglie e ad Edward con la 22. Probabilmente voleva eliminare solo il testimone ma gli altri due erano lì e ha deciso di freddarli tutti. L'ultimo viaggio fuori dalla sua abitazione il maggiore lo fece alle 1 e 22 secondo la procuratrice. E perché proprio alle 1 e 22 del 19 novembre a quel punto? Beh il maggiore nel suo telefono aveva impostato una sveglia proprio per quell'ora e l'aveva impostata alle 19 del giorno prima. Ma seriamente che doveva fare a quell'ora a 1 e 22? Perché svegliarsi così tardi? Secondo la difesa un innocuo controllo su una delle piante che aveva in casa. Secondo l'accusa Kit uscì a quell'ora per portare i cadaveri di Pamela ed Edward sulla Rose Town Road dove gli diede fuoco. Il pilota durante il suo processo per il triplice omicidio che si svolse nel 2021 salì alla sbarra. Pianse, si scaldò e ribadì più volte a gran voce la sua totale innocenza. Christian disse guardi non sono nemmeno io che dico sono innocente, sono le prove che dicono che sono innocente. Christian tentò anche di puntare il dito contro la sua ex moglie Joan dicendo ai giurati guardate che quella è fuori di cervello, sicuramente potrebbe essere stata lei. Fu una procedura penale a mio avviso ricca di colpi di scena e di testimonianze interessanti. Ed è un vero peccato che al giorno d'oggi non ci sia più gran parte del processo online. Troverete qualche piccolo spezzone se vi interessa su Court TV che è un canale YouTube americano. Comunque sia, alla fine di tutto questo Christian Martin venne dichiarato We the jury find the defendant Christian Martin guilty of murder under instruction number 4. We the jury find the defendant Christian Martin guilty of murder under instruction number La giuria avrebbe potuto scegliere la pena di morte, ma sei dei giurati ebbero pietà di lui e Christian Martin venne condannato tre volte alla pena dell'ergastolo. Ad oggi molte persone continuano a credere nella sua innocenza. Ci sono pagine su Facebook che lo difendono, siti online che parlano di tutte le prove contro Joan, ma ad oggi settembre 2023, voi probabilmente questo lo vedrete ad ottobre 2023, non si è sbloccato assolutamente nulla. Vedremo tutti insieme dove lo porterà il suo appello. E se avrà successo questo appello? Ma voi, cari miei spettatori, che cosa ne pensate della storia di questo pilota così contorta e particolare? Colpevole o non colpevole? Fatemelo sapere nei commenti. Se siete ancora qua con me, io vi ringrazio moltissimo per aver visto questo video. Bella storia e non commento oltre perché oramai ho detto proprio tutto quello che avevo da dire. Vi informo che a breve arriverà un altro caso italiano. Comunque sia, il video è finito. Andate in pace e prendetevi cura di voi stessi. Ciao a tutti!